Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandici per un incidente. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sulla statale A1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione Livorno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!